Eccoci nel settimo sabato del tempo di Pasqua. Stiamo già alla fine del Vangelo di Giovanni, capitolo 21. Ascoltiamo. In quel tempo Pietro si voltò a evire che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, quello che nella cena si era chinato sul suo petto e li aveva domandato, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù, Signore, che cosa sarà di lui? Gesù le rispose, se voglio che egli rimanga affinché io venga a te, chi importa? Tu segui, se ne fosse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga affinché io venga, a te, chi importa? Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Parola del Signore. Che bello, no? La fine del Vangelo continua a mettere elementi che ci devono aiutare a crescere nella vita cristiana. Guarda questo Pietro che pur, essendo il capo della nuova comunità, diciamo tra noi, il Papa, ancora sta a guardare quello che fanno gli altri, o l'atteggiamento che fa il Signore verso gli altri. E' però questo, e' però quello. Ma Pietro, tu non hai capito ancora niente. Che la tua funzione è un servizio, che non è un posto. Se lo dico a Pietro, me lo dico a me e te lo dico a te. Cristiano, tu, cristiano, hai capito che tu hai una missione da svolgere, tu hai una missione che ti porterà alla santità. Non solo questo, guarda, come finisce il Vangelo, della stessa forma che finiva ieri. Seguimi, e oggi tu seguimi. Cioè, detto, fai i fatti tuoi. Cioè nel senso di che è importante per te, Pietro, che tu possa capire la grazia di chi ti chiama per poterlo seguire. Ma per poter capire, Pietro, chi ti chiama, devi capire chi ti ama. E paradossalmente Giovanni ha sperimentato questo. Lui non è stato scelto il primo come testa della comunità, ma nonostante questo, lui si ha sperimentato l'amore del Signore. Perché? Perché il Vangelo lo dice. Il Vangelo lo dice, dice, e veniva, dice, Pietro si voltò e vede che lo seguiva quel discepolo che Gesù amava. Ma chi sta scrivendo questo Vangelo? Il discepolo che Gesù amava. Cioè, Giovanni lo sta dicendo, Pietro si voltò e mi vide a me, a cui il Signore amava. Come se, due cose, come se si mettesse in evidenza che lui, ma noi lo sappiamo che è lui, perché dopo lo dirà, no? Dice, non basterebbe tutti i libri per poter scrivere i fatti che il Signore ha fatto. Se no, ecco il succo della parola d'oggi. Lui è una persona che si sente, ma non sentimentalmente, si sa ontologicamente amata dal Signore. Perciò dice, a cui il Signore amava. E non una volta, in diverse volte nel Vangelo di Giovanni. Lui lo sta dicendo su di sé. Lui si sente amato. E come lo dirà? Il discepolo che Gesù amava. Non era che Gesù faceva questa discriminazione, diciamo, ama di più a questo e meno all'altro. No, perché anche a Giuda, che pur sapendo che lo avrebbe tradito, è stato chiamato anche a rinunciare a questo. Cioè a vedere che lui lo ama pur nel tradimento. Che bello che è. È come un figlio, una mamma che sperimenta l'amore dei suoi, no? Il figlio che sa che la mamma lo ama. Che li perdona, che li aiuta, che li correggia, che lo veste, che lo serve, che le dà da mangiare. Che lo ha gestato dentro. Che bello. E quante volte tu le potresti dire alla tua mamma, particolarmente la mamma, no? Anche al papà. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Se lo diresti, lo diresti, lo diresti. Però molto di più. Farò vedere. Dimostrare questo. Ecco perché un figlio che si sente amato dice, la mia mamma mi ama. Giovanni sta sperimentando questo. Il Signore mi ama. Ha fatto qualcosa per me, ha perdonato i miei piccati, le ha dato senso alla mia vita. E' quello a cui mi sta chiamando quotidianamente, di cui imparo. Cioè raccontare. E' come una, non lo so, una coppia che vuole raccontare il viaggio di nozze. Potrebbe fare un film, potrebbe fare tutta una sessione fotografica. Ma ogni foto, ogni foto che si proietta, sì, ci saranno 50. Tutta la famiglia è riunita, che bella, la spiaggia, che bello quello, che bello quello. Ma la coppia che ha vissuto quello, dice, qua c'è un linguaggio che noi non possiamo sperimentare, non possiamo esprimere, ma noi l'abbiamo sentito. Perché quel giorno non solo faceva caldo, avevo fame, mi sono caduto. No, c'è un complemento che non lo può trasmettere quella foto. Così è la vita. La vita cristiana è questa. Sperimentare l'incontro con il Signore. Dire, sì, io ci credo, ma non perché lo dice il catechismo, non perché me lo hanno insegnato solo i miei genitori. Io ci credo perché ho sperimentato il suo amore. Io ci credo perché Dio mi ama. Questa è la preparazione e questa è la forma di attendere lo Spirito Santo su di noi. Preghiamo. Signore, la tua chiesa è simile questa mattina a Gerusalemme, preparata come una sposa per la venuta dello Spirito. Venite, corriamo. Il Re ci fa entrare nella sua dimora per farci dono del suo amore. Signore, fa che in questa Pentecoste allare il mio cuore. Posi il mio cuore a assumere le dimensioni della terra intera, perché il tuo Spirito si diffonde in ogni essere. Lo Spirito è il dito di Dio che scolpisce nei nostri cuori la tua legge d'amore, affinché non siamo lettere morte e diventiamo audaci testimoni del tuo regno che si avvicina. Te lo chiediamo per Cristo, il Figlio di Maria, che vive il regno nei secoli e secoli. Amen. Maranata. Vieni, Spirito Santo. Alleluia, alleluia.